Anche l'ex scuola elementare Baffi di via Gramsci è ufficialmente libera dall'amianto. L'ha reso noto il sindaco di Broni Antonio Rivezzi su Facebook spiegando che ATS Pavia ha certificato la venuta bonifica e che l'area su cui sorgevano le scuole è tecnicamente restituibile. I lavori avviati all'inizio dell'anno finiranno ufficialmente il prossimo 24 settembre. La notizia che arriva a pochi giorni dall'inizio delle scuole per migliaia di studenti dell'oltrepo è di buon auspicio per un futuro libero dal fantasma dell'amianto per questa città e mentre anche la bonifica dell'ex palazzina Avis nei pressi dell'ospedale Arnavoldi va verso la sua conclusione si apre ufficialmente la partita della costruzione del nuovo liceo, la terza struttura inserita nel sito di interesse nazionale Fivronit, ancora in attesa di bonifica. Lunedì centinaia di studenti torneranno a frequentarla, la struttura gemella delle vecchie elementari appena cancellate è stata messa in sicurezza e le autorità sanitarie hanno ovviamente garantito sulla possibilità di utilizzo ma è chiaro che presto e a maggior ragione quando l'area a fianco sarà ufficialmente disponibile si dovrà spingere sull'acceleratore per realizzare il nuovo liceo. Temi questi che avrebbero dovuto essere al centro del convegno in programma per sabato 11 settembre alla presenza di rappresentanti di Stato e Regione ma che è stato rinviato dal Comune probabilmente ad ottobre per l'inizio della campagna elettorale in vista del voto dei prossimi 3 e 4 ottobre.